Ma credimi, i più poveri che ho mai conosciuto, sono quelli che hanno solo i soldi. Sai, nei ragionamenti del cervello c'è logica, nei ragionamenti del cuore ci sono le emozioni. Ti dimenticano se non le servi, ti ricordano se li fai comodo, triste la verità. Ama che ti ama, non amare che ti sfugge, ama quel cuore che per te si strugge. Non ti ama chi ammortidisce, ma ti ama chi guarda e tace. Quando gli altri ti capiscono nel modo sbagliato, non perdere tempo a giustificarti. Volta pagina e goditi la vita, perché che ti conosce bene non ti fraintende mai. Vi prego, non rimandate, fate ogni cosa che vi sentite di fare. Date i baci che vi sentite di dare e gridate tutti quei mi manchi che nascondete. Sai, la vita delle volte ci stravolge, i piedi e non ci dà la possibilità di scegliere, perciò evitate i rimorsi. Fatelo, agite, perché i rimorsi logorano il cuore. C'è un valore che non bisogna mai perdere per nessuna ragione al mondo. Si chiama dignità. Tutto dipende da come guardiamo le cose. Con la mente si vedono, con il cuore si sentono. Di fronte alla cattiveria gratuita e all'invidia, devi sorridere e pensare che, prima o poi, la ruota gira per tutti. Non espriecare il tuo tempo in discussioni inutili regala indifferenza. Se ti piace Gespañol, metti un like e iscriviti al canale. Grazie. Sai, tre cose non possono essere a lungo nascoste. Il sole, la luna e la verità. Disse la verità e la falsità. Io sono il sole e tu sei il fulmine. Io il lumino e tu abbali. Io sono l'ora e tu sei l'attimo. Per quanto tu possa anticiparmi, io ti raggiungerò sempre. La verità è nella bocca di tanti, ma nel cuore di pochi. Ognuno racconta quello che vuole, ma soprattutto quello che gli conviene. tu ascolta il cuore, al resto ci pensa la vita. Melio un tosso di pane secco, con tranquillità, che è una casa piena di banchetti con discordia. Prima di parlare domandati se ciò che direi corrisponde a verità. se non provoca male a qualcuno, se è utile, ed infine se vale la pena turbare il silenzio per ciò che vuoi dire. Io amo la semplicità che si accompagna con l'umiltà. Mi piacciono i barboni. Mi piacciono la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle. Sentire gli odori delle cose, catturarne l'anima. Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo. Perché lì c'è verità, lì c'è dolce e sa, lì c'è sensibilità, lì c'è ancora amore. C'è un momento in cui devi decidere. O sei la principessa che aspetta di essere salvata, o sei la guerriera che si salva da sola. A presto. A presto.